Parla. E in fretta. Prima tu. Il mio nome è Sarah Connor. Il 29 agosto 1997 doveva essere il giorno del giudizio. Io e mio figlio John l'abbiamo impedito, salvando 3 miliardi di vite. Ti basta come curriculum? No. Avrete anche cambiato il futuro. Ma non avete cambiato il nostro destino. Che cosa sei? Non ho mai visto una come te prima d'ora. Quasi umana. Io sono umana. Solo potenziata. Chiariamo una cosa. Proteggere lei è la mia missione. Se la metterai in pericolo, io ti spaccherò il culo. Certo. Guido io. Aspettati un bip, fratello. Tutto il mio corpo è un'arma. Risparmiatelo per le signore. Scusa. Vieni con me! Torno presto. Ascolta! Moriranno tutti! Tutti! Se tu non sopravvivi! Come fermiamo questa cosa? Non si combatte. Si scappa e basta. Sara! Tu credi nel destino, Sara? Se non vinciamo questa... è finita. Lo sai? Quando avremo finito, io ti ucciderò. Curiosità horror, sapevate che la colonna sonora del film Calt la Cosa di Carpenter e curata dal maestro Ennio Morricone ebbe addirittura una nomination ai Razzi Awards per la peggiore del 1982? Beh, nonostante questo smacco, diciamo, è diventata un cult esattamente come il film. Ragazzi, grazie per la vostra attenzione, se vi piace la mia maglietta, solo per horror fan, trovate in infobox il link per comprarla e io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!